Due tipi di prevenzione si intrecciano nella figura del questore, il dottor Salvatore Arena, perché la Polizia di Stato che lui la presenta presidia quella che è la sicurezza di noi cittadini, mentre l'ILT presidia quella che è la salute dei cittadini. Un binomio importante che si porta avanti anche in questura con il camper della prevenzione. Cosa significa per la Polizia di Stato sostenere l'ILT? Lei ha fotografato bene tutto, a me non resta molto da dire, ma dico soltanto che questo binomio, l'ILT, Polizia di Stato, è un binomio forte e inscindibile, almeno qui a Biella. Entrambi operiamo nel campo della prevenzione, l'ILT lo fa magnificamente in quello della salute e gliene siamo grati. Noi cerchiamo di farlo nel limite delle nostre possibilità, facendo del nostro meglio nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Noi riteniamo che è importante prevenire determinati eventi se si vogliono raggiungere dei risultati apprezzabili. E in questo il percorso è comune fra noi e l'ILT. E proprio in virtù di questo percorso comune, in virtù di questa comunanza di interessi, che noi nella l'ILT ogni anno ci incontriamo. C'è il camper della l'ILT che staziona per un bel po' di giorni per la prevenzione oncologica in questura e riteniamo che sia un'opera sicuramente meritoria da parte della l'ILT, a cui, torno a ripetere, siamo particolarmente grati. Grazie.